Io Rolo l'ho conosciuto dopo il 1975-1977, non ricordo bene, me lo presentò una comune amica e la prima volta che andai da lui fui sorpreso da una cosa, che durante questi esperimenti, io sono un laico, scettico, razionale, razionalista, quindi andai a casa sua, dove abitassero a Milano in via Pellico vicino alla stazione, con molto scetticismo, e vieni di fare le cose svalorditive, e mentre faceva questi esperimenti, mentre faceva queste cose svalorditive, mangiava tonnellate, era tutto un trionfo di bignè, e io gli chiesi, ma perché, allora ci dobbiamo ancora a lei, poi passeremo a tu, gli dico, ma perché lei mangia tutti questi bignè, che a Torino si chiamano bignole, perché io perdo, poi sudava, dice io perdo peso, perdo energie, perdo forze, e mi devo ricostituire queste energie perdute. Alla fine degli esperimenti che fece, io gli ho detto, ma lei mi sta ipnotizzando, lui mi dice ancora una volta, io la metto alla porta, no, io non sto ipnotizzandola, era una sensazione evidentemente sbagliata la mia, poi dopo questo mi portò nella sua, lui era un cultore di Napoleone, sapeva tutto su Napoleone, aveva parecchi cimeli anche preziosi su Napoleone, e mi disse, prenda una, c'era anche l'enciclomeria Treccani, cioè prenda un volume qualunque della Treccani, lo apra su qualunque pagina, io l'aprì, lui era a distanza di 5-6 metri, e lui lesse quello che io avevo sotto gli occhi, la voce che io avevo sotto gli occhi. Un'altra volta, un'altra volta, lui mi invitò a cena, io abitavo, i miei genitori abitavano a Torino, io era a casa dei miei genitori, e mia madre, dopo lui abitava vicino alla stazione, mia madre mi diede una lettera, e dice, già che passi dalla stazione, imbuga questa lettera, e io ho miso in tasca questa lettera, andai da lui, c'erano sempre poche persone, 4 o 5 persone, misi questa lettera in tasca, e sporgeva la parte terminale di questa lettera, e lui mi disse, tu hai una lettera, tu hai una lettera in tasca di tua madre, indirizzata, adesso non mi ricordo a chi, io ti ero fuori questa lettera, non sapevo che fosse indirizzata, evidentemente ero indirizzata alla persona che lui mi aveva detto, e dice, apri questa lettera, apri questa lettera, e vedrai che alla pagina 2, accanto alla frase che citò, io non ricordo quale, c'è un ripensamento di tua madre, una virgola, io apri questa lettera, la frase era quella, e c'era la virgola, un'altra volta mi disse, io gli telefonai, quando andavo a Torino, lo facevo sempre, e gli disse, vieni stasera, vieni stasera, ti aspetto a cena, e portami un mazzo di carte, un mazzo di carte nuovo, in tonso, e gli dice, lo trovi in una tabaccheria, ce ne sono tante, lì è la stazione, io vado a comprare questo mazzo di carte, lo porto da lui, ci sentiamo a tavola, poi finita la cena, quando cominciavano i suoi esperimenti, gli dice, tira fuori questo mazzo di carte, io tiro fuori questo mazzo di carte, che era ancora, ripeto, nel cellofan, e lui mi disse, sono tutti assi di cuore, erano tutti assi di cuore, ora io non so che dire, io parlo della mia esperienza personale, un'altra volta, un'altra volta andai a cena, la cena fu organizzata da Romiti, che era l'allora amministratore delegato della Fiat, ed eravamo in collina, ricorda una cena, c'erano gli anfitrioni, marido e moglie, mia moglie, Vittoria ed io, e Raul, non so se c'era anche un'altra persona, eravamo in 5 o 6, non mi ricordo, e a un certo punto disse a mia moglie, di Vittoria, anzi, diere a mia moglie un tovagliolo piegato, e a un certo punto disse, tienilo sulle ginocchia, mia moglie prese il tovagliolo, lo mise sulle ginocchia, lui, con un carboncino, proprio un mozzicone di carboncino, scrisse qualcosa nell'aria, che io non riusciva a decrittare, lo scrisse molto rapidamente, poi, rivolgendosi a mia moglie, le dice, apri il tovagliolo, spalanca, distendi, gli spiega il tovagliolo, e sul tovagliolo c'era scritta la data di nascita di mia moglie, mia moglie è nata il 10 ottobre del 1945, lo dico perché lei lo dice lei stessa, quindi non pecco di ridere, non è un difetto di galanteria, un rispetto, voglio fare a mia moglie, però è stata rivelata, quindi sul passaporto, sulla carta di identità, sulla paglia, sui documenti, alla data 20 ottobre, 20 ottobre, e quindi lui non poteva, come poteva sapere che mia moglie era nata il 10 ottobre del 1945, quando su tutti i documenti, non lo so, io non sono in grado di giudicare, secondo me lui era dotato di straordinari poteri paranormali.